amici telespettatori eccoci ancora è sempre a 19 live di quest'oggi settimanalmente come sapete cambiamo anche argomenti anche perché dobbiamo stare sempre sul pezzo e lo facciamo aprendo alla scuola tutta colpa del covid così l'abbiamo intitolato perché la segnalazione del professor giuseppe raffa pedagogista ci ha particolarmente interessato quindi lo ringraziamo per questa segnalazione anzi cogliamo l'occasione per invitare tutti gli operatori scolastici anche i genitori gli studenti che si avessero delle segnalazioni particolari noi siamo pronti ad accendere i nostri riflettori saluto come sempre il nostro consulente scuola che il professor francesco tulone che oltre a essere docente dell'università di palermo è anche analisi matematica tanto per darne una ecco perché l'ho invitato perché qui ci sono i numeri quando ci sono i numeri il professor tulone ci sguazza dentro alla grande per dire grazie per l'invito buon pomeriggio allora professore raffa ma come le è venuta questa idea e come è partito per questo sondaggio grazie per l'invito intanto saluto lei i vostri telespettatori ovviamente anche il professore tulone e beh come mi è venuto in mente da una ventina d'anni circa io analizzo studio realizzo ricerche e pubblicazioni sui comportamenti dei ragazzi e delle famiglie perché le due cose sono assolutamente legate quando è scoppiato il covid cioè diciamo due anni fa circa si è diffusa l'idea è stata quasi una corrente di pensiero che addossava esclusivamente al covid al virus alle restrizioni a tutto ciò che continua purtroppo a ruotare attorno alla pandemia il fatto che i ragazzi fossero cambiati da così a così e che avessero intrapreso e continuano ad intraprendere dei comportamenti di eccessiva aggressività di cinismo di una violenza mai verificatasi prima allora mi sono chiesto ma è davvero tutta colpa del covid e questo è il punto di domanda la mia risposta da circa due anni a questa parte è diversa cioè non è tutta colpa del covid secondo me secondo gli studi che faccio secondo le ricerche secondo anche i dati analitici che vado raccogliendo un po' qua e un po' là c'è un fenomeno che parte prima del covid e che col covid si sviluppa in una maniera come fosse una miccia che viene accesa proprio come un detonatore nei confronti dei comportamenti dei ragazzi e allora ho chiesto a una cinquantina di dirigenti scolastici della nostra Sicilia praticamente di tutte le nove province se con sole tre domande potessero prendere parte a questa mia mini ricerca al volo ovviamente perché di questi tempi come ben sapete non non ci si può vedere si possono fare le cose fortunatamente attraverso le tecnologie e ho chiesto ho intitolato questa piccola ricerca appunto tutta colpa del covid punto di domanda le domande erano sostanzialmente tre la prima i ragazzi sono cambiati è vero è tutta colpa del covid oppure c'è dell'altro l'altra domanda la seconda era quella basata sul fatto se le famiglie fossero cambiate ci fossero comportamenti un attimo più aggressivi e quant'altro la terza ed ultima cosa stanno facendo le scuole cosa hanno fatto in passato in un passato recente a proposito delle famiglie a supporto delle famiglie e ovviamente a supporto dei ragazzi ebbene da tutto questo è uscito fuori un quadro abbastanza interessante dal punto di vista anche vostro diciamo giornalistico ma soprattutto interessante per quanto riguarda diciamo la mia tesi che vado portando avanti da qualche anno e che i dirigenti scolastici complessivamente hanno avvalorato cioè e concludo che i comportamenti gli atteggiamenti quello che sta accadendo appunto ai ragazzi non è figlio esclusivamente non è figlio unico ecco se vogliamo utilizzare un termine di paragone del covid ma le radici di ciò che sta accadendo appartengono a un periodo che va prima del covid che si sposta prima del covid continuo a complimentarmi per i suoi tempi e l'esposizione lei è una comunicazione potentissima ne sono sicuro e quindi la ringrazio per averci dato questa opportunità allora facciamo così analizziamoli uno per volta perché noi abbiamo preparato anche una grafica adesso li facciamo vedere se la regia mi mette in onda il cartello che richiama a questi numeri e poi ne sentiamo anche volta per volta l'opinione del professor tulone che è un attento analizzatore anche lui dei numeri no e questi saranno veramente utili allora vediamo questo cartello alla prima voce dice che il 70 per 75 per cento del campione è convinto che il covid abbia innescato una bomba sociale esistente prima del covid in difficoltà fascia 11 16 anni soprattutto professore raffa sì praticamente come dire gran parte dei dirigenti scolastici la percentuale è quella mi pare si possa discutere fino a un certo punto è convinta che da uomini e donne di scuole c'è qualcosa che va ben al di là ovviamente del virus della pandemia eccetera e affonda le radici in quello che gli addetti e la voi di solito chiamiamo con un termine magari non bellissimo ma molto tecnico abbandono educativo cioè ad un certo punto in concomitanza con la rivoluzione digitale l'avvento di internet degli smartphone e di tutto il resto i genitori gradualmente hanno abbandonato i figli fino a quando questi sono praticamente rimasti soli in una società non solo liquida come la definisce BAUN ma soprattutto e questa è la cosa più grave dal punto di vista pedagogico orizzontale dove praticamente c'è questa illusione che si è tutti uguali e i ragazzi imparano dai coetani non più verticalmente come avveniva una volta cioè dal genitore in giù è chiaro che è un fenomeno che non è diffuso a tutti i genitori italiani a tutti i genitori del mondo per carità io conosco fortunatamente tantissimi bravissimi genitori tanti genitori molto attenti tanti genitori che invece seguono perfettamente i figli purtroppo c'è una grossa fetta di queste famiglie che ha dismesso questa abitudine di educare i figli di essere i primi punti di riferimento educativi la prima agenzia educativa così come è stata la famiglia negli anni le motivazioni alcune sono riconducibili ad internet altre poi magari se ritenete opportuno ne parliamo la cosa certa è che quel fenomeno di cui stiamo parlando aggressività, cinismo nuovo nichilismo come lo chiama Gallimberti è un fenomeno che parte prima è che certamente col covid ha ricevuto una accelerazione pazzesca mai verificata se prima Professor Tulone una sua considerazione sì una mia considerazione siamo così a caldo intanto mi associo ai complimenti che ha fatto per l'ottima dialettica del Professor Raffa magari bravissimo come sempre si è bloccato un attimo si è bloccata la connessione forse perché ha ricevuto una telefonata il Professor Tulone perché quando andiamo così in Skype sicuramente arrivano le telefonate poi si blocca la connessione ormai siamo diventati tutti espertissimi di questa cosa vediamo se è tornato ditemi non è tornato allora c'è un altro dato poi lo facciamo commentare appena rientra per il 55% dei presidi i genitori sono cambiati diventati più aggressivi e invadenti analizziamo questo Professor Raffa eccomi eccomi aspetti aspetti che è rientrato Tulone così sentiamo internet è un po' ballerino eh sì dunque la prima risposta che io posso dare a questo quesito è che non mi scandalizza più di tanto il fatto che il covid abbia esasperato una situazione sociale di grande difficoltà soprattutto nella gestione dei figli ma ricordando anche che questo suo test che ha fatto è un test fatto in Sicilia con i dirigenti siciliani perché dico questo perché secondo me nelle zone svantaggiate dell'Italia cioè Sicilia Calabria Campania probabilmente il l'avvento della di internet ma anche di una serie di giochi sull'isola con il cellulare o altro o anche della tv non troppo buona ha esasperato il rapporto che c'è di maturazione dei nostri figli cioè cosa voglio dire cioè quando eravamo più piccoli il nostro posto ideale in cui maturare era la scuola e vuoi non vuoi i genitori avevano l'idea che si crescesse nella scuola prima si pensava che la scuola fosse indispensabile per trovare il lavoro cosa che non è sempre vero comunque dico in ogni caso si dava un valore alla scuola educativo sociale formativo adesso il genitore che non è adeguato all'educazione spesso e volentieri in Sicilia purtroppo è vero che ci sono tantissimi genitori che sono eccellenti ma ci sono tanti genitori che demandano alla scuola non come un posteggio ma demandano ai docenti quella che è la formazione dei loro figli una volta che non c'è più questo mi permetto di interromperla solo per dire che noi dobbiamo analizzare il risultato di questo di questo sondaggio cioè il 75% dei dirigenti scolastici dice che è tutta colpa del covid perché è innescata una bomba sociale esistente perché il covid ha esasperato cioè non mandare i ragazzi a scuola e farli formare con dei docenti con una struttura sana ha creato questa tensione ha aumentato la tensione che c'è nelle generazioni adolescenziali tra l'altro appunto 11-16 anni che sono che è il periodo più brutto per la crescita di un ragazzo o di una ragazza però il dato è molto molto preciso è 75% vuol dire la stragrande maggioranza dei dirigenti scolastici i dirigenti scolastici hanno il polso assolutamente sì perché chiedo scusa il 75% dice che non è tutta colpa del covid attenzione non è tutta colpa del covid io qui leggo del campione è convinto che il covid abbia innescato una bomba sociale esistente prima del covid ha innescato la bomba prima del covid la bomba sociale già esistente prima esatto c'è un'attenzione abbiamo perso dei valori sociali e purtroppo con l'avvento di internet con una tv con le comunicazioni a quell'età ancora in cui si deve plasmare un ragazzo il concetto per essere chiari perché mi sono sbagliato io prima il concetto è già questa bomba sociale c'era poi il covid l'ha proprio innescata cioè l'ha fatta esplodere era l'esempio che faceva della miccia il professore prima che diceva c'era sta miccia è arrivato il covid boom è scoppiata la bomba analizziamo quest'altra cosa se vuole un altro piccolo appunto noi abbiamo sempre detto che le nostre scuole sono fatiscenti sono brutte non funzionano nelle mille cose però ricordiamoci che per molti molti ragazzi quelle scuole fatiscenti sono sempre meglio della loro casa cioè anche l'ambiente là all'interno è sempre più sano dell'ambiente della loro casa quando stanno a casa e non vanno a scuola loro hanno una casa brutta una tensione a casa che non non li fa crescere sereni per cui la scuola li preservava da quello che era un degrado umano questo paradossalmente era un posto di libertà allora per il 55% dei presidi i genitori sono cambiati diventati più aggressivi e invadenti professore Raffa sì qui se la vogliamo buttare in politica visto che di questi tempi è di moda c'è una leggera maggioranza e una forte opposizione in che senso che il 55% del campione che io ho avuto la fortuna di intervistare dei intelligenti scolazzi si sostiene che i genitori sono cambiati sono più aggressivi sono addirittura invadenti mentre il 45% dice che le famiglie si sono avvicinate mentre il 45% dice che si sono avvicinate quindi diciamo che c'è una quasi mentre l'altro diciamo l'altra parte una buona fetta di dirigenti scolazzi soltiene il contrario cioè anzi che in questa crisi alcuni genitori una buona parte dei genitori delle scuole che io ho interpellato si sarebbero avvicinati e avrebbero avuto un rapporto starebbero mantenendo un rapporto migliore rispetto a una volta quindi c'è una forte divisione credo che vadano esaminati entrambi i campioni con due diciamo di esamine brevissime la prima è vero che i genitori sono molto più aggressivi è vero che non ci sono più come dire anche lì insomma abbiamo una botta abbiamo una telefonata io ci sono eh sì sì infatti ma vediamo se ritorna subito anche questo eccolo qua è arrivato se voglio chiudere questo questo test questa domanda rispecchia l'idea che c'è gente almeno la metà della gente che sa il ruolo della scuola nella formazione del ragazzo e altra metà invece che non sa cosa serva la scuola forse non ci dobbiamo chiedere se è il caso di spiegare di aiutare la scuola ad avere il corretto ruolo a quelli aggressivi a quelli aggressivi e invadenti ma non tanto a quelli aggressivi ma ai genitori per spiegare loro che è lì nella scuola che quel figlio può trovare la sua strada per realizzarsi nella vita se noi posteggiamo un figlio pensiamo che la scuola sia soltanto un posto dove far passare il tempo a un figlio e allora lì quando la scuola non funziona si diventa aggressivi e invece chi crede nella scuola aiuta la scuola ad avere quel ruolo ok la differenza è proprio questa capisco prego 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 professor Raffa infatti diciamo che questa parte di presidi che mi spiegava le cose di cui stiamo parlando di questa nuova aggressività mi diceva che anche prima diciamo dell'irrompere della pandemia c'erano stati grossi problemi tutti sappiamo mi ricordo l'esempio di Avola in provincia di Siracusa dove una mamma in pigiama perché non aveva tempo diciamo da perdere si è recata immediatamente alle 8.35 a scuola per rimproverare e poi aggredire una insegnante rea di aver rimproverato pensate un po' suo figlio bene l'aggressività dei genitori nei confronti della scuola è ovviamente si è impennata ma col covid siamo raggiungendo dicono appunto i dirigenti scolastici una vetta mai ovviamente praticata prima di adesso intanto c'è l'altra parte di dirigenti scolastici che invece sostengono il contrario è una cosa contraddittoria apparentemente contraddittoria che a mio giudizio si inserisce si incastona perfettamente in questo puzzle di confusione di mancati interventi di una scuola che traballa per tanti motivi non solo per colpa sua che dunque produce un senso di inadeguatezza sia nei dirigenti che nei docenti che appunto anche in alcuni genitori che però ultimamente insomma secondo i dirigenti scolastici siciliani si sarebbero avvicinati in una maniera decisamente migliore più positiva direi quasi pacifica alla e nella indescuola e collaborano magari di più questo ci apre a un dibattito perché magari se qualcuno ha una sua opinione che sia docente genitore o anche studenti perché insomma gli studenti sono sempre il punto focale delle nostre argomentazioni della scuola però le dice anche in questo sondaggio che è fatto che il 25% dei dirigenti si è rivolto per parlare di che cosa hanno fatto cosa hanno fatto di fronte a certe difficoltà il 24% dei dirigenti si è rivolto allo psicologo per aiutare i ragazzi ma solo il 7% dichiara che i ragazzi hanno scelto di parlare con il professionista in questione cioè non si sono fatti aiutare è una percentuale bassissima probabilmente l'arrestante percentuale tra il 24% e il 7% che cosa ha fatto professore Raffa per quanto riguarda i dati come il professore Tullone mi insegna sono ovviamente da prendere con le pinze così come tutte le statistiche i risultati di indagini ricerche eccetera a meno che non ci mettiamo dentro l'analisi matematica e qui il professore Tullone dice no attenzione sono d'accordo che i dati vanno presi con le pinze perché è molto delicata la questione assolutamente quindi non possiamo generalizzare o come dire solo 2 più 2 fa 4 il resto è tutto opinabile o relativo come avrebbe detto uno sicuramente più importante di noi al di là della battuta la questione è molto seria cosa fa la scuola nei confronti dei ragazzi bene molti insegnanti soprattutto dirigenti scolastici sono rivolti allo psicologo pensando che la questione educativa che affligge i nostri ragazzi possa risolversi soltanto con lo psicologo soltanto con la psicologia da qui per esempio l'atteggiamento della politica che ultimamente ha chiesto ma non ottenuto dal governo Draghi almeno una parte della politica il bonus psicologo bene Draghi ha detto di no e a mio giudizio ha fatto bene non perché il lavoro dello psicologo non serva ci mancherebbe altro molte questioni vanno devono affrontate essere affrontate con lo psicologo ma attenzione perché la emergenza è soprattutto educativa come dicevo prima cioè che coinvolge noi adulti competenti ci si chiami genitori ci si chiami insegnanti oppure docenti ma coinvolge prima noi e che è quindi giusto affrontare le cose in maniera con la pedagogia con la educazione con i nuovi dettami pedagogici che devono essere inculcati ai ragazzi attraverso ovviamente il lavoro dei genitori è chiaro che non si può come dire non intervenire con i genitori tanto è vero che molti dirigenti scolastici al termine del nostro colloquio sostenevano la tesi che occorre assolutamente aiutare i genitori e che il governo la politica le istituzioni devono assolutamente farlo perché sono da soli sono sbandati e hanno bisogno assolutamente di un supporto che in termine tecnico si chiama per farla breve supporto genitoriale ecco come si fa questo supporto genitoriale e chiede un genitore ce l'avete qua allora come si fa questo supporto genitoriale professor Tulone è molto semplice ma anche difficile noi in provincia di Ragusa come lei sa io lavoro all'ASP di Ragusa coordino l'ambulatorio antibullismi dove ultimamente abbiamo messo in pratica la scorsa primavera dico ultimamente un nuovo progetto che si chiama pronto soccorso pedagogico abbiamo chiesto ai genitori come e quali difficoltà stessero incontrando con i nativi digitali la nuova specie umana questi ragazzi che i genitori di oggi non conoscono anche perché internet ha prodotto ripeto una nuova specie umana cioè un comportamento un atteggiamento un modo di fare un modo di giocare di divertirsi perfino di fare l'amora completamente diversi rispetto ai canoni pedagogici che noi tutti avevamo di una volta motivo per cui bisogna intervenire glielo abbiamo chiesto hanno accettato quasi all'ottanta per cento e quindi molto presto probabilmente tra qualche giorno saranno avviati dei corsi di formazione per genitori che si vogliono mettere diciamo in discussione attraverso le nuove abilità pedagogiche perché sono necessarie nuove quelle vecchie non servono più ecco perché i genitori abbandonano e le nuove abilità tecnologiche perché un genitore deve capire un po' come funziona internet come funzionano i social altrimenti non concluderà mai nulla ripeto e concludo nuove abilità pedagogiche e nuove abilità tecnologiche ovviamente ci vuole anche tanta disponibilità da parte dei genitori perché se si chiudono a riccio oppure scappano beh non concluderemo nulla e mentre i genitori dicono che poco o nulla è stato fatto i presidi all'unanimità chiedono alle istituzioni di avviare interventi ad hoc al supporto delle famiglie in difficoltà mi interessa l'opinione del professor Tulone ma io non so quanto riuscirà uno sportello questa buona idea del dottor Raffa perché il problema è spiegare ai genitori e spiegare a tutti noi che il mondo l'Italia non è fatta di caste per cui il cardiologo diventa cardiologo solo perché figlio del cardiologo il notaio solo dal figlio del notaio e vi dicendo perché il problema nostro della nostra età io ho 50 anni a breve farò 50 anni è che noi siamo cresciuti con l'idea che ci dovevamo fare le ossa e dovevamo guadagnarci la nostra realizzazione con grandi sacrifici quando un genitore non crede più in questo il figlio non ha neanche più lo stimolo è la stima per l'ambiente scolastico per cui è già il genitore che non crede più che sia quella la strada per realizzarsi il figlio quindi perde questo valore insieme a tanti altri valori purtroppo che si sono persi e comincia ad andare di matto questo è il problema adesso perché non sa più quali sono come costruirsi il suo futuro immagino che questo sia il problema principale credere nel ruolo della scuola e nel fatto che nonostante tutto quello che si dica un cardiologo può anche essere figlio di una qualunque persona non per forza di un cardiologo professor Tulone mi sembra di aver capito però che il professor Raffa farà partire questi corsi che servono proprio a questo cioè a educare i genitori e a far capire loro come funziona la scuola e perché deve funzionare la scuola giusto? io questa cosa la faccio anche nel senso non sono chiaramente bravo come il professor Raffa ma andando nelle scuole e dicendo ai ragazzi di credere nei loro libri nell'educazione a scuola in quello che gli spiegano certo se loro hanno per 5 ore un docente che dice si fa così e poi tornando a casa hanno l'educazione opposta noi abbiamo un problema perché il ragazzino non sa cosa fare cioè questo o l'opposto a proposito dell'aggressività a proposito velocissimo a proposito della nuova aggressività ecco perché c'è tanta aggressività c'è tanta violenza tra i giovani semplice dobbiamo sempre tornare prima del covid quando è scomparso in famiglia il conflitto generazionale in due parole cosa vuol dire vuol dire che io per crescere ho sempre litigato con mio padre che era presente lì litigato intendo dire idee diverse ovviamente che era presente con il padre assente ho evaporato come dice il recalcati come diceva prima l'ancan tutto questo non è avvenuto e allora questa aggressività incredibile i ragazzi la stanno sfogando fuori il covid ha accentuato un problema che c'era già prima e questo è molto grave e non capisco perché non si intervenga ci deve scappare per forza il morto e vabbè ma lei non è che può pretendere che la politica adesso si interessi di queste cose quando ha davanti le campagne elettorali da fare da scontrarsi fra di loro fare le gestioni tu hai detto una cosa bella tu ne hai detto una sbagliata si fanno le contrapposizioni cioè voglio dire all'interno dei partiti quindi pensate un po' se stanno lì possono perdere tempo con queste cose comunque ha ragione ha ragione sicuramente bisogna educare anche i genitori alle nuove tecnologie perché il nostro distacco con i nostri figli può anche essere causato da questo fatto io per esempio usando facebook ho già avuto il rimprovero da mia figlia mi ha detto è per vecchi oramai tutti usano tiktok twitter o instagram per cui bisogna aggiornarsi perché bisogna crescere con loro fino a quando non hanno un'età per cui possiamo andare da soli io sono uno di quei genitori già avanti perché se volete vedere i miei balletti su tiktok andate pure su tiktok vedrete sono a dorso nudo in mutande sempre giovane bravo no faccio proprio in mutande faccio i balletti lì su tiktok non ci credo non ci credo per controllare no lo faccio così per controllare mia figlia capito è quello purtroppo mi devo sacrificare faccio così e poi mi chiamano invece tutte le donnine vabbè allora grazie professor Raffa ci ha dato un bel input ne torneremo a parlare magari con dei dirigenti scolastici anche in diretta cosa che facciamo ogni martedì alle 15 dove dedichiamo 90 minuti alla scuola grazie professor Tulone complimenti arrivederci grazie 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 grazie